A noi e a lui che sta giocando il mondiale lo sappiamo prende male, prende e diceva Elzing è un pezzo di merda Sì, sicuramente si poteva evitare però insomma Analizzando a bocce ferme probabilmente si poteva evitare Ciao a tutti ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Startpad Torniamo a parlare del mondiale, MXGP, si corre all'Europa Locket Beh, hard pack direi Molto, molto hard Tra l'altro alla mattina, non so se hai visto la mash dell'Europa 2.5 GT No, non ho mai visto, ho visto qualche video, qualche storia che è girata su questo Fango, pantano peso, ok? Pantano proprio Poi si cementa Prima mash MX2 era già secca Sì, è un terreno molto, molto duro, simile ai nostri, forse con un po' tipo di sferiabile sopra Molto più simile ad arco, senza tanta ghiaia Adesso ha anche sabbia per chi viene, quindi vuole avere, vuole avere Però si è un terreno duro che si asciuga velocemente, si creano dei bei canali Pecche Pacca molto a Pecche Vediamo il sanditone là dietro che fanno, che sono colori diversi al parco Fanno un po' enduro, eh Sì, sbagli da cura seru E lo facciamo molto forte a Daome in gara 2 MX2 gara 1, un pochino diciamo standard la gara Beh, standard, sì, ma per noi italiani delirio, cioè disastro, disastro Anche perché è vero, ricordiamo che Tibo Bellistante è caduto nella match di qualifica Ha avuto una botta forte in testa E non ha corso il Gran Premio, si è fermato alla match di qualifica Quindi la seconda forza del mondiale, quello che era in seconda posizione del mondiale Non ha corso la match di qualifica Cioè, Adamo ha vinto la match di qualifica, eravamo molto speranzosi Prima volta che vince la match, Adamo è reale, quindi Ma lo vediamo lì un pochino indietro Sì, un gara 1 che è stato sfortunato, è caduto in partenza Sì, non caduto, è stato bloccato Sì, è stato bloccato, insomma, mi ha perso tantissimo Qui entra Esinga, Esinga Vabbè, ci sta, ci può stare, forse Lui che era all'esterno doveva capire che Esinga avrebbe tutto aperto e gli avrebbe chiuso la dretta Probabilmente per noi, a noi e a lui che sta giocando il mondiale lo sappiamo Prende male, diceva, Esinga è un pezzo di merda Sì, sicuramente si poteva evitare, però insomma Analizzando a bocce ferme probabilmente si poteva evitare da parte di Adamo proprio Sì, dopo abbiamo visto che ha saltato anche con la bandiera gialla E quindi ha fatto un bel purpurè Finito undicesimo, retrocesso due posizioni, tredicesimo Peccato perché la velocità era molto molto buona Per me, sai, vincendo anche forse la prima maestri qualifica Ti dà quella motivazione Per questo Gran Premio era il più veloce in pista Non c'era niente per gli altri Un piccolo appunto su McLellan Che abbiamo visto fare due gare buone C'è la prima in quinta posizione e la seconda in quarta posizione E proprio guardato tutte le mix due perché mi è proprio piaciuto Proprio come si è difeso Poi purtroppo la seconda match non fa terzo La seconda match perché riesce a passarlo Kai The Wolf In un punto molto tecnico tra l'altro Però vabbè, bravo McLellan Prima match quindi vince Gertz Che torna direi al 100% ormai Lo disegnerai in piena forma E c'è, è pronto per giocarsi al mondiale con Adamo E molto bene anche con questo weekend Lucas, molto bene anche No, Lucas, Sash Sash E' arrivato E' partito davanti Abbastanza davanti come al suo solito poi Però non aveva fatto la classica gara che retrocese Rimasto lì combattivo non me l'aspettavo Forse dato anche dal terreno Che è più duro La moto scorre Non è super impegnativo Sì, forse è fisicamente Perché è piccolino, molto piccolino Prima match Una splendida match di Orgamo Che marca stretto Gertz Tra l'altro tutta la match E la seconda match perso Disperda E così Sicuramente l'energia che ha fatto dalla prima Esce dalla seconda Cioè magari dovrebbe proprio il suo passo Non c'è capito quindi ci stai che la seconda Magari non sei Super in forma Indizie Si prende a rivincita Damo Perché Partendo sesto, settimo Ha fatto una gara da paura Ha fatto una gara da paura Passa Passaggio 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 E' riuscito ad arrivare Veramente sotto Simon Langenfelder Che mancavano Quanto? 5 minuti 6 minuti Passato anche lui In questa parte Ha rischiato di prendere qualche motata In questa curva Nella curva dopo Quel panettone Ha rischiato Sì è un punto Infatti è un punto tecnico Dove si vedono molti Passi E Damo più che altro Vince la prima Effettiva di mondiale Quindi E c'è Ci sta Quello che mancava Mi piace Nel senso Ti dà la speranza Anche in lui Di dire Cazzo Ora Tabella rossa Non è Perché Posso starci Passo Gerzi Passi tutti Più Pagli di sport Quindi Tanta roba Nel senso Speriamo che All'Hommel Non sia in sabbi Vince Gerzi Il Gran Premio Con un primo Un terzo Secondo Lagen Felder Terzo De Wolf Che comunque Lagen Felder Anche lui Dopo l'infortunio È tornato Campionando drasticamente Perché Adam Ruvano in testa Ma passa De Wolf secondo Terzo Torna Gerzi Ben distante Dalla seconda Crolla in quarta posizione Tra l'altro Distacchi Non Cos'è Eccessibile Bene MXGP Bello Sì 4 e mezzo Adesso C'erano pieni Dice un po' C'erano Diversi Italiani Che correvano C'erano diversi Sì Due italiani Alberio E Guarise Quindi Bene E Ma più Anche forato E Sì No Chiaro Ovviamente Non Wildcard E c'è il ritorno Di Team Geiser Team Geiser Dopo una stagione Completamente fuori Devuta all'infortunio E il femore E torna Era uno Era uno Big arm pump Ficca Ci posso Secondo le due braccia Così Ci posso Ha fatto Nono gara 1 Sesto in gara 2 E Un rientro tranquillo Che ci sta Maturo più che altro Torna anche Vado a Rebeck Al mondiale Con il team La seconda gara Però Cioè Così Torna Ed è sempre Vado a Rebeck È veloce Comunque Lui ci sta È un bel pilota Sì Certo Sì Sì Bene Pauroso il femore Davanti Cosa ci dici Davanti direi Un femore Cioè Impeccabile No Vince Tre gare di fila Tre gare di fila Quindi Benissimo Gara 1 Vince Gara 2 Ha fatto Buttavia Poccia Sì Era in testa Era in testa Cazzo Cazzo Il partito è ricaduto Disastri Però Bene Direi Un femore Ritrovato Che Nelle ultime gare Ci sono quei Cento punti di distacco In campionato Da Prado Che comunque Rimangono tali Anche dopo questa gara Però sì Rimangono così Rimangono Nel senso Quindi Se non fosse Partito così Il campionato Per Feb Perché Parti di stagione Non è stato Estremamente veloce E competitivo Secondo me Adesso vedremo Un altro campionato Potrebbero essere Anche gli strascichi Degli infortuni Ovviamente Si è portato dietro L'infortunio Chiaro 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 Sicuramente Prado Prado Invece Prado Melin Chiudo secondo di giornata Con un terzo E un secondo posto Lo so Lo vedo Vedo Tutto in riserva Lo vedo Cioè Va bene Hai 100 punti Hai 100 punti E vuoi vincere il mondiale Un po' presto No? Non lo so Non lo so Cioè comunque È andata bella rossi Cioè di vincere Ma che Al me piace Però Lo vedo un po' Si Un po' Fli Si accontenta C'è il vantaggio Però insomma Io qualche match Mi proverei a vincerla No Così Però Comunque Ha ragione lui 100 punti di vantaggio Non calano Perché lui vince La match di qualifica Quindi Riesce a mettersi In cassaforte Quei 5-6 punti Di solito Su Febvre Che non è un Non è un gran Pilota La match di qualifica Non è super Solo d'arco Solo d'arco Qui tra l'altro Cade Poi Nel rialzarsi Ricade ancora Quindi Cioè È un casino No misera È un casino E La seconda match Con un pochino di tumulti Tra Sewer Febvre E Prado La vince Calvin Dlanmeren Pilota Sebiolo Che sull'art Partilo Che fa paura E Così Va bene Tra l'altro Un buon Gran table Perché la match Prima 4-5 Era uno Che è già Buon risultato Per l'ander Su un terreno così Soprattutto E gara 2 Vince Quindi È appena fuori Della zona podio Quarto Seguito da Koldenov Anche lui Buona gara Per lui Quinto Fivas Continua Entrato nei piedi Adesso Io dico che Entro la fine del mondiale Se non succede niente Un podio Ce lo fa Può farlo Sì Può farlo Per entrare Per le azioni Carico Duro Chiude il terzo Sewe Sul podio Bene Nel senso Con i suoi Alti e bassi A volte molto Molto bassi A volte molto alti E terzo Quindi 7 gare Alla fine Prado in testa Con circa 100 punti 104 104 punti Un po' fensivo Sì Cattiveria Terzo Sewe È bene distante Da Fevre Anche lui Sì Lo vediamo Distante ma non troppo 60 punti Sì Un po' meno 55 Un gran premio Invece Si ha attaccato Fernandez Che sono lì Che si lottano Il terzo posto Perché sono Si contano 13 punti Quindi Speriamo che Nel finale di stagione Magari anche per il terzo posto Si veda Magari delle belle battaglie Come siamo Sto ubicati In procedere Speriamo E con questo Vi lasciamo Vi diciamo Che il prossimo appuntamento È l'Ommel Sabbia Bello Un mangio Bella gara Spero di venire Blander viene fuori Un anders Secondo te Potrebbe vincere Una match Torna anche Buggers Falpoti C'è Se c'è Il mei fortunato Non lo so Se generalmente Falpoti Vi ricordiamo Di iscrivervi al canale Commentare Condividere Mettere mi piace Fare tutto Perché È attivare la campanella Tra guardare alcuni video Sì Perché ci aiuta molto Questa cosa Adesso che siamo Un pochino In una situazione Di stallo Col canale Perché è estate Perché la gente Guarda meno youtube Anche meno voglia Di mettersi sul divano Con 75 gradi Guardare la tv Ci aiuta molto Questa cosa Fa vedere A molte più persone Il nostro video E noi riusciamo a portare Contenuti di livello Sì Assolutamente Detto ciò Vi salutiamo E ci vedremo Per una prossima puntata Del commento Del Zippy Di Lommel Bella raga A tutti ragazzi Per l'altro saluto romano Ha 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 Eh